buongiorno a tutti qui arduino schianato dai arforex.com come avete visto all'inizio del video vi ho messo il banner del corso base sul forex trading che faremo 18 settembre 2020 quindi link in descrizione se volete iscrivervi detto questo oggi voglio parlarvi di una cosa molto interessante ovvero i cambi di trend come riuscire a capire appunto i cambi di trend e soprattutto le continuazioni di trend dove sono dov'è una delle informazioni principali che ci dà il prezzo per fare del trading sano semplice ma con un'informazione molto chiara allora prima di tutto dobbiamo capire quando il mercato sta per cambiare prendiamo proprio questa fase noi arrivavamo da una fase di fortissima tendenza al rialzo come potete vedere pa 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 movimento molto al rialzo quindi noi quando è così non cerchiamo ovviamente un una una vendita noi cerchiamo di rimanere nel nel trend quindi movimento di tendenza cercheremo la continuazione di tendenza ma qui c'è stato un primo movimento vedete molto forte con grandissime barre nere soprattutto questa che non l'ha fatto solo una barra ma che ha creato i presupposti per fare che cosa per creare poi un ritracciamento che è stato confermato eccolo qui da una barra di volatilità questa è una barra molto molto pesante nera che ha la stessa direzionalità di questo tipo di leg ribassista molto forte come potete notare quindi la prima informazione che ci dice guarda che il trend probabilmente inizierà a essere più short è quella lì questa questa qui quindi io non vado a ricercare dopo un grande movimento i massimi chi se ne frega io vado a ricercare intanto un movimento soprattutto di grande vola non magari in una barra sola ma un movimento di tendenza che si mangi molto del movimento precedente o comunque che ci faccia vedere un grande sell off diciamo con ampie barre poi dobbiamo avere una conferma in più perché qui non vuol dire niente potrebbe ripartire continuare il trend rialzista nel movimento up dobbiamo avere poi una conferma con una barra di volatilità noi in year forex sul platino soprattutto negli ultimi due tre anni abbiamo molto molto approfondito tutti i discorsi di volatilità e ogni volta che facciamo trading quindi condividiamo anche le nostre operazioni nel platinum nel telegram eccetera e nella trading room valutiamo sempre le barre di volatilità e la struttura di volatilità del prezzo quindi questa è la prima barra che ci indica informazioni di continuazione short da questa informazione short questa qui però questo non è che sia poi quello che ci fa entrare ci da l'informazione che nelle poi successive giornate eccetera eccetera la cosa migliore è quella di ricercare delle posizionamenti in trend e quindi poi dov'è che ci dà delle con quindi non è che entriamo qui è quindi potrebbe essere che entriamo poi magari qui ma questo ci conferma la debolezza tant'è che qui poi avremmo avuto due input molto importanti qui un ulteriore conferma guardate aumento di volatilità ancora nella direzione del trend che non è un punto di entrata è un'informazione che ci dice che probabilmente nelle prossime giornate ci potrebbe essere una continuazione di trend anzi vi dico mai entrare direttamente sulla barra di vola perché la barra di vola spesso porta con sé dei ritracciamenti più o meno importanti quindi questa però un'informazione quindi prima informazione che è questa barra di vola confermata da questo movimento poi ci sono dei segnali quindi si può fare l'entrata eccetera conferma barra di vola conferma che il trend forte che ci sono più seller ci sono più vendite poi ci abbiamo dei segnali però nuova barra di vola eccola qui poi ancora guardate ci sono svariate barre di vola oltre a dei segnali di trading ma ci sono delle barre di alta volatilità che non è ripeto un segnale di trading ma ci conferma la forza di quel mercato a ribassare guardate qui pam abbiamo dei segnali ancora guardate qui vola vola alta riparte lo short anche qui boom che non è ripeto un'informazione ma ci può permettere di cercare delle entry poi nei giorni successivi e poi guardate qui abbiamo una barra di vola alta vi faccio vedere bene aspettate che vi faccio capire esattamente ecco abbiamo una barra di vola alta qui ma che arriva contro la tendenza questo non ci dice nulla nel senso che ci dice sì cioè non è che ci dice nulla ci dice recupero molto forte facciamo attenzione a rimetterci short ma non ci metteremo long come non ci mettiamo long adesso cioè nel momento in cui si viene a creare poi come è successo qui scusate come è successo qui che vi ho fatto vedere prima c'è una sorta di forza devo di debolezza in questo caso direzionalità che ci mostra il mercato come qui poi nel ritracciamento abbiamo la conferma con l'aumento di vola quindi in questo caso specifico noi dovremmo avere un po come questo un movimento chiaro di vola alta e poi nel ritracciamento dovremmo avere delle altre un'altra barra di vola alta che probabilmente ci indica un ulteriore legri alzista poi ci sono trend che durano così ci sono tre che durano meno ovviamente ma quella è un'informazione operativa per esempio in questo caso guardate la vola alta che si è venuta a creare qui quella bianca è una vola alta contro la tendenza quindi non è un'informazione che ci dice ai prossimi segnali long si va long se dovessimo avere una gamba forte con aumento di vola eccetera poi nell'ulteriore barra di vola alta si può cercare di cercare dei segnali del nostro piano quindi vedete che da un punto di vista operativo il daily ci permette di capire la forza debolezza nel mercato e la continuazione o meno e quindi non andare magari contro trend su certe cose ma aspettare che il mercato con soliti ci mostri giornate con vola alta nella direzione della tendenza principale che poi è quella per me di breve termine quindi di qualche giorno poi qualche settimana spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione probabilmente questo è un argomento che magari su cui potremmo anche riflettere in altri video intanto spero vi sia piaciuto vi ricordo eccolo qua ancora ulteriormente il corso 18 settembre 2020 trovate il link in descrizione è un corso base sul forex trading 4 ore live tutte online quindi vi aspetto io vi saluto ci vediamo al prossimo video un buon trading simple ciao a tutti